Ivo il tardivo film del 1995 di Alessandro Benvenuti torna oggi a far parlare di sé raccontato analizzato nel libro Ivo il tardivo indagine su una pellicola folle straordinaria firmato dallo stesso attore e regista toscano insieme a Enrico Zoi e Filippo Cellini. Il volume è stato presentato lunedì 31 ottobre in Mediateca Toscana nell'ambito delle attività culturali proposte al pubblico alla presenza degli autori e dello sceneggiatore del film Ugo Chiti. Ivo il tardivo film che ha segnato un importante traguardo nella carriera registrica di Alessandro Benvenuti dopo Benvenuti in casa Goriz, Zit e Mosca, Belle al Bar presente infatti oggi una serie di spunti e riflessioni ancora molto attuali. Il protagonista è un ragazzone con problemi psichici con un cuore grande la passione per l'enigmistica e una spiccata vena artistica personaggio che ha introdotto nella cinematografia il tema molto poco affrontato sul grande schermo della diversità mentale. Mostra al pubblico un paese fantasma della Toscana, Castelnuovo dei Sabbioni, nel comune di Cavriglia, che nel 1956 venne distrutto per due terzi e ricostruito in parte in una collina sovrastante per fare spazio alle escavazioni di miniere degli Ignite di cui il territorio è ricco, per poi diventare in anni recenti sede di musei e percorsi didattici fino al recente annuncio della regione toscana che destinerà all'antico borgo 20 milioni di euro provenienti dal PNRR per il ritorno a nuova vita con il toponimo originale di Castelnuovo in Avane. È un film che racconta dell'affetto degli abitanti per un paese amato e mai dimenticato che hanno voluto essere presenti nella pellicola come comparsa e personaggi e poi Ivo è un personaggio sincero autentico per questo ancora vivo nel cuore di chi lo ha creato. Come tutte le cose del cuore si si ritorna e Ivo è uno dei film che mi sta più nel cuore ma non solo a me proprio a tutta la mia famiglia. A cominciare dalle mie ragazze ormai che all'epoca bimbe si erano perdutamente innamorate di Ivo tanto da chiedere al loro papà ma Ivo quando torna, cioè capito nel senso che forse preferivano Ivo a me come babbo. È una creatura nata per un atto di coraggio in qualche modo, cioè io avevo fatto belle al bar non era ancora uscito nelle sale, i produttori che erano poi gli americani della WIP erano entusiasti del film e mi chiesero come succede nei migliori film americani, qual è il prossimo progetto da fare prima ancora che fosse uscito nelle sale e io ho presi quel treno al volo. Gli raccontai in due parole inventandomi una storia di uno che torna a un paese fantasma e comincia a dipingere tutto perché tutto quello che ha imparato l'ha imparato in questo istituto di salute mentale sulla settimana elichimistica, quindi un'idea fulminante avuta lì per lì e da questo questo anche indica la singolarità di questo film che è nato proprio da un atto di sfrontatezza più che di coraggio. Enrico Zoi insieme a Filippo Echellini e allo stesso Benvenuti riescono a descrivere nel libro la grande attualità di un personaggio originale che merita ancora oggi di essere visto o rivisto che lancia un messaggio inedito agli spettatori. Il Tardivo è il primo film italiano e forse mi butto lì ma credo proprio che sia così, il primo film al mondo che analizza l'autismo in maniera seria, in maniera importante, in maniera corretta. C'è stato Rayman prima ovviamente, nessuno lo vuole ignorare, ma in questo film c'è sicuramente meno actor studio e più poesia, più attenzione alla realtà, più emozione sincera e partecipazione da parte di Alessandro nella resa di un personaggio che è come l'autismo dovrebbe essere, perché non si parla mai di autismo in questo libro, però in realtà è la figura di Ivo e ha tutte le caratteristiche della persona autistica. Lo racconta come dovrebbe essere, cioè in tutte le sue sfaccettature, la parte indubbiamente presente della genialità, dell'abilità, in questo caso il disegno, ma anche i momenti di crisi, le difficoltà. Oggi vediamo tante, purtroppo, tante favole anche in televisione o sulle piattaforme o al cinema che ci raccontano l'autismo come se gli autistici fossero tutti dei genietti e sono favole, la componente geniale sicuramente esiste, ma bisogna per essere veramente seri non limitarsi a questo, ma raccontare anche la realtà che c'è dietro, le difficoltà, i problemi. Ecco, Alessandro tutto questo l'ha fatto quasi ormai, tra un po' sono 30 anni, 27 anni fa.